buongiorno buongiorno allora questa mattina salvo particolarmente contento perché di perché di fermo con ste mani perché ieri sera siamo andati a vedere uno spettacolo di maurizio battista e che è successo che è successo a ritaglio con ste mani che mi ha chiamato sul parco abbiamo fatto un pezzettino dei nostri pezzetti a ritagli un pezzettino la rete e anche questi fenomeni come è la carbonara? la pagna la locanda la locanda lui ha inventato questo personaggio di un po' di quella che ti ha fermata dentro una franta lui sta con monopantino una signora mi ha fermato stava camminando su lungo tevere a un certo punto la ragazza si ferma e comincia a chiacchierare mi porta dietro un cespuglio e mi dice prendi quello che vuoi e io mi sono preso in monopantino di personaggi grazie per la presenza grazie a te voi salvo e il tuo video grazie a tutti ciao allora volevamo ringraziare Maurizio fermo ti volevo ringraziare Maurizio di questa opportunità che mi ha dato ti voglio tanto bene vabbè io che stavo a dire ti anticipavo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti